Chiediamo chi per l'accesso ai saperi e chi per l'accesso alle merci, perché non è possibile che in Italia noi giovani donne sempre più qualificate, sempre più preparate, siamo sempre più sottopagate. Non è possibile che in Italia a fronte di un numero di laureate che è il maggiore della media europea, tutti i molti maggiori della media europea, siano poi più alti i numeri che sono occupati e benessuti anche. Noi chiediamo chi per l'accesso alla professionalità, ma dovertutto chiediamo che ci abbia restituito quello che tutti i giorni produciamo, vogliamo indietro la nostra ricchezza, vogliamo indietro i nostri diritti e se questo momento taglia fondi, se questo momento licenzia, se questo momento ci vuole fare pagare la crisi, noi oggi diciamo che la crisi non la paghiamo!